Buonasera amici sportivi, mercoledì sera per la sesta giornata del girone B. Gli A.S. Tronzi vincono ancora una volta quarta vittoria consecutiva fra campionato e Coppa con risultato di 2-0 sui The Unknown. Qua con noi ancora una volta Davide Pirato, questa volta col premio al miglior in campo essendo campionato. Davide, veramente una buona partita, come ho detto prima, quarta vittoria consecutiva. Non ce ne sono state tante occasioni da una parte né dall'altra, voi siete stati bravi a sfruttare con i due gol di Amato, anzi un gol è una perla. In difesa tutto benissimo, una partita subirete, un caccio a sette difficile da vedere. Sì, sicuramente rispetto alle altre partite, questa volta invece abbiamo migliorato moltissimo la fase difensiva, non abbiamo subito il gol. Nonostante, come sempre, negli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora, ogni volta soffriamo, facciamo di tutto per farci recuperare la partita. Stavolta diciamo che in attacco abbiamo avuto delle carenze, penso comunque perché siamo stati più bassi in campo. Diciamo che abbiamo dato quasi tutti i palloni ad Amato cercando di far sbloccare la partita e siamo saliti poco. Però i contro, appunto, siamo riusciti per la prima volta forse. Dobbiamo magari riuscire a fare appunto uno spostamento in campo magari più veloce e quindi riuscire magari a non subire reti e a farne anche di più. Veramente in campo si è vista un'ottima squadra sia dalla difesa che dall'attacco. Sono avanti tre punti ulteriori. La Champions è a portata di mano. Sì, ancora diciamo che cerchiamo appunto di andare avanti partita per partita perché abbiamo visto che ci sono molte squadre forti. Anche direi che questi ragazzi ci hanno messo molto in difficoltà stasera. E andiamo avanti partita per partita, cerchiamo di qualificarci. Abbassiamo le tasse, abbassiamo! Sperimenti agli S3 Onzi a più tardi con l'altra partita. Sperimenti agli S3 Onzi.